musica 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 benvenuti ragazzi io sono jesus e oggi siamo qui su the kaizo caverns con cece e squid00 bella lol aspetta è andato solo più ok oggi facciamo come si chiama dungeon il verna ru aspetta che c'è una pressur spaccatele io vi prego le sto odiando squid perchè non ci aspetti ce lo sediano sulle pareti oh mio dio un labirinto allora è un cavolo di labirinto allora è possibile che io veda già la lana? dove la vedi? si nooo cosa sta succedendo? oh scheletro ah ho fatto la cagata ho preso le plasherplit anch'io anch'io ah ah ragazzi sopra di noi sopra di noi sono spawner sono spawner che attivano le plasherplit dovete chiudere sopra oh ma una stanza di plasherplit ma che cazzo ragazzi datemi una mano oh 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 oddio ma cos'è? piccignaccolo eeeh oh chiudiamo please ho mezzo cuore ho mezzo cuore chiudiamo ok no no lo scheletro no è morto no no ho un cuore io ne ho mezzo no l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso quante case di cose ah sono le cose di squid ah ma chi è che sta spaccando qua? ah ma gli scheletri salvano ma cos'è? oh 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 oddio ho tutta la tua armatura squid squid lo scheletro ha la tua armatura dovrei riuscire grazie eh come cazzo faccio? dove spawnate? c'è uno spawner ho visto lo spawner l'hai visto? aiuto va va è sparato eh ah ah dov'è? dov'è quel cazzo di spawner? ah è sopra di noi è sopra di noi aspettate è qua dov'è? l'hai visto l'hai visto eh ah questo qua è in parma vaffan bagno rotto no no non corre ok rotto rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto c'è un piccignacco l'occhio ah 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 sto morendo ok ok ci sono calmi tutti un attimo please è appena iniziato l'episodio è appena iniziato il dungeon ehm è un po' un casino sto oh mio D hai visto la lama? si eh io sai cosa vi dico io corazzo bene intorno io corazzo io corazzo io corazzo hai fatto hai fatto oh mio Dio ho già visto degli scheletri ho già costruito è questo il bello di c'è il bello pardon non fra aspetta non rubare la porta senti i blades oh spawn è proprio occhio proprio hai visto con la fraccia dov'è dov'è? eh era dietro qui si sale e si scende poi aspettate aspettate un attimo ragazzi oh mio Dio guardate in su non voglio fermi tutti fermi tutti no no allora andiamo tutti insieme andiamo tutti insieme andiamo dentro la casa andiamo dentro venite di qua venite di qua saliamo su saliamo su qua tutti in casa chiudo chiudo ecco andato ok su su direi su aspettatemi su ci sono ci sono ci sono oddio mi cecchinano rotto 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 ce l'abbiamo fatto c'è una cesta c'è una cesta pozioni bella io ne prendo una di riduzione quella è splash venite tutti ah aspetta e le altre le lasciamo qua no io le prendo cioè piuttosto che lasciarle qua che si prendi le venite qua venite qua venite qua tutti in cerchio aspetta in cerchio eh un po' difficile oh cazzo dove sono dove sono i blitz oh mio Dio oh oh cavolo cosa c'è qua potrei morire da un momento all'altro trovo i blitz i blitz i blitz scendiamo 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 cosa sta esplodendo scendiamo giù ci sono dei letti ci sono dei letti oh oh mio Dio oh oddio scendete giù vi prego scendete 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 chi se ne frega di tutto scendete sono già sceso ma hai visto cosa hai visto cosa c'era la cest pane e no qua è questa qua grande c'è tutta un'armatura completa frecce tnt spade oh ci ho sentito strammale tipo la mia armatura com'è messa no io posso non sopravvivere ancora ehm un po' di tnt non fa male bene direi che ci siamo se volete possiamo dormire no ci sono mostri nelle vicinanze non se può non se può non se può non volete sdraiamoci per settare lo stunno eh non si può ci sono mostri nelle vicinanze io sono sdraiato poiché ma vaffanculo ma mi spieghi perché a me non mi fa io sono andato nell'altro ehm ehm una domanda qua in quale l'altro c'è andato il legno aspetta il legno lo lascio nella cesto no oh zombie zombie cosa ci faceva cosa ci fa con zombie mi stava lanciando giro ma qua ti cechinano proprio c'è alla grande è stato bello conoscervi ciao io sto dormendo come ho fatto a dormire perché io non posso dormire voi si mi spiegatemi devi cliccare su questo di letto l'altro invece si può dormire ma ho cliccato su quello non mi fa dormire ma gli stai simpatico eccolo qua cioè abbiamo capito il legno lo lascio nella cesta o no? oh sto dormendo sto dormendo come ci arrivo ragazzo? come ci arrivo? una cesta una cesta carbone dove siete? ragazzi quale casettina? quale casettina? eh guarda oltre dove ci sono tutti i blaze ah ok please aprite torcia 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 zombie chiudi chiudi qua chiudi con cosa chiudo? fanno un casino dell'Oscar altre pozioni ragazzi ascoltatemi ascoltatemi ho trovato una cesta venite qua venite qua venite qua un attimo venite qua ok ah tantissima legna hai tantissima legna vai a portarla a casa ce la puoi fare oh ma ragazza la serie sta andando avanti a gonfie belle adesso abbiamo trovato dell'armatura decente perchè c'è un blocco di tmt qua eh dovevo tappare in qualche modo ma tu davvero hai tappato con un blocco di tmt? si non farlo mai più dove siete ragazzi? oh ho trovato una cesta scalatemi oh legna e ferro scusate c'è c'è scusate 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 mi ho scambiato per legna e ferro legna e ferro? i lingotti eh i lingotti ci conviene portarli a casa? si tutto prendete tutto preso tutto io io non ho preso niente preso io sto per fare un attacco suicida di nuovo dobbiamo portare a casa i lingotti e il legno io conquistarò questa torre oh 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 passami un lingotto passami un lingotto qualcuno mi dia un lingotto faccio un accendino ho la sede perchè vuoi fare un accendino? scusate voglio fare un accendino sentitemi sono d'ottima mano sono d'ottima mano squid sono venuto qua apposta e c'è un altro spawn ho mezzo cuore no squid ho preso tutto no no ho preso tutto c'è 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 ma tanto sono respawnato i messi ah ok ma c'è troppa roba sto arrivando ah ok ho già sbagliato stavola io ho fatto questa legna ma c'è troppa roba aiutatemi a prendere la eh la possibilità è cece cece vieni qua vieni qua cece cece vieni qua che c'è dell'armatura di squint stanno salendo un attimo sto salendo eccomi mi chiuso sentami la mia roba eh lì aspetta ecco vieni qua vieni qua vieni qua io regazzo l'ho parecchio di legno anche io ho parecchio ho 15 di legno infatti e ho 5 lingotti d'oro che non 5 lingotti di faro ah ma io ho pieno arcofondo ho appena scoperto che sono tornati indietro dove ero prima l'ho visto l'ho visto eh si devo ritornare su eh qua c'è la ghiaia e io la ghiaia mi sta veramente sulle balle c'è un muro di ghiaia qua adesso oh ma no no muoio ma no no sei morto WTF non è una garanzia che tutto vada secondo i piani dottoressa Goddall signora è vero come dice arthur se luna fosse un wizard useremmo dei programmi per rimpiazzare i dati mancanti ma questo processo non funziona per gli esseri umani un programma che faccia una cosa simile sarebbe troppo complicato ed è anche con i wizard beh avete visto lo stato in cui è strong anche se fosse possibile realizzare un programma simile non ci sono garanzie che potrei farla tornare in sé al 100%